buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi porto un contenuto adatto a tre tipologie di utenti prima di tutto è un contenuto molto adatto a soprattutto a chi crea contenuti online ovvero un contenuto in precisamente in questo momento specifico per quanto riguarda la creazione di contenuti su youtube ma poi vedremo che si espanderà anche ad altri social la seconda tipologia di utente è l'utente che non crea contenuti non investe in criptovalute ma vuole fruire di una nuova piattaforma streaming il terzo è eventualmente l'investitore cripto che va a scoprire un nuovo progetto che punta a essere un nuovo ecosistema block chain che va a scalfire eventualmente proverà a scalfire youtube e altri social network e a un token ovviamente utility conto che in governance al suo interno sto parlando di joy stream raggiungere l'indirizzo joy stream punto org come potete vedere a un token utility con una supply di poco più di un miliardo tuttavia da tenere anche conto per un eventuale acquisto di token non c'è un limite alla creazione del token essendo un token di pagamento anche di revenue non hanno messo un tetto limite attualmente la fornitura totale come vedete sovraimpressione poco più di un miliardo però potrebbe aumentare nel tempo quindi prestate attenzione anche a questo fattore attualmente si attesta mentre sto registrando il video a 0,0 16 centesimi di vest di con una crescita del 254 per cento negli ultimi 30 giorni e nell'ultime 24 ore del 19,9 per cento attualmente è scambiabile solamente su m e xc come exchange vediamo che già in stream è una piattaforma open source con una propria block chain questa block chain è un layer 1 con il proprio set di validatori che sono indipendenti attualmente esiste una sola implementazione di riferimento che va scritta in rust è basata su un framework di sviluppo block chain substrate anche se è possibile incorporare un ambiente di smart contract compatibile con le tiro virtual machine al momento non fa parte del runtime di join stream per quanto riguarda il consenso i validatori vengono selezionati in base al post nominato e la produzione dei blocchi avviene in un programma di creazione di blocchi stocastici basato su uno slot che viene chiamato base la finalità deterministica è prodotta attraverso il classico protocollo di accordo bft chiamato grand ra mira a creare un ecosistema dove un content creator può condividere contemporaneamente su tutte le da streaming che vengono create sia dal team di stream ma anche da sviluppatore esterni o persone che sono capaci come potrei essere io in questo caso ma non sono capace con un semplice click condividere un video su tutte queste piattaforme e ovviamente venire ricompensati con il token joy attualmente e sono disponibili due settori il primo settore è greve dove dove si occupa di web 3 finanza e cripto quindi se sei un content creator che crea contenuti sulla finanza sulle cripto valute bisogna che ti registi a greve in descrizione comunque lascerò un link di affiliazione che come vedrete permetterà di avere un piccolo compenso anche a chi crea un contenuto del genere in questo caso aiuterai a far crescere un pochino la mia community il secondo è l1 media che permette ai creatori di contenuti per quanto riguarda news educazione scienza in tar time e tanti altri di andare a targettizzare i propri contenuti una volta che si è fatto l'accesso a club si può fare la registrazione sia tramite indirizzi mail oppure tramite un portafoglio dedicato che vi consiglierà direttamente il sito io personalmente mi sono scritto tramite indirizzi mail tanto poi sempre possibile trasferire token su un portafoglio dedicato non custodia esterno come potete vedere questo è il mio canale youtube che viene sincronizzato automaticamente al canale che ho creato su club e settimanalmente si ricevono dei piccoli compensi nel token joy adesso vi apre il mio wallet esterno come potete vedere nelle ultime settimane ho raccimolato al valore attuale se dovessi cambiarli in dollari 75 dollari con un contro valore in token di 4546 ma in questo caso non bisogna andare a vedere il valore in 6 75 dollari per tot settimane di utilizzo dalla piattaforma o per tot video caricati innanzitutto perché io carichi video su youtube come farei tutti i giorni e in automatico me li va a trasferire anche su club quindi è un guadagno totalmente passivo ma in prospettiva con la speranza che questo applicativo possa prendere valore un domani questi 4546 token potrebbero valere molto di più quindi in modo talmente passivo caricando i video su youtube io vado a raccimolare e all dare il token joy andiamo a vedere come connettere youtube per essere pagati innanzitutto vi ricordo cliccate sul link in descrizione così potete registrare la piattaforma e mentre data anche una mano a me a crescere collegate youtube non è immediato la sincronizzazione devono verificare eventualmente i dati la proprietà quindi possono volerci diversi giorni in base al tier ovvera in base a quanti utenti abbiamo su youtube quanti iscritti andremo a ricevere dei compensi diversi se si ha già un canale che tra i 1000 e 5000 utenti iscrivendosi al canale iscrivendosi al programma partner si riceve 10 dollari in token joy e per i video caricati un dollaro attenzione non vediamo pagati per ogni video caricato se no sarebbe la gallina delle uova d'oro ma ogni settimana mi pare che al momento solo tre video vengono considerati per il pagamento quindi con un canale da 1 a 5 mila follower si va a prendere 10 dollari per l'iscrizione al programma e 3 dollari a settimana nel token joy come ho detto non date peso a questo valore capisco che con un canale da 1 5 mila utenti 3 dollari a settimana sono pochissimi ma sono 3 dollari in token joy in che sia olda settimanalmente e man mano che il nostro canale youtube prendere a piede crescerà cresceranno anche i compensi e qua sotto vedete anche il piano compenso referral che si può guadagnare un massimo di 25 dollari in token per ogni utente che sia si registra con il referral link per quanto riguarda i pagamenti tramite link ad affilazione ovviamente non basta che si registra un qualsiasi utente si deve registrare un utenti che sia un conto in creator che apre poi il canale all'interno di joy stream e sincronizza youtube comunque vi lascerò anche in descrizione oltre al mio link la filazione questa schermata dove poter andare a vedere tutti i dettagli di pagamento e tutte le altre cose che magari per tempistica non vado a menzionare all'interno del video andando un attimo sul mio canale potete vedere nella sezione pagamenti se hanno i token e che attualmente ho ricevuto qua ci sono i prelievi e questi pagamenti con ricevuto i pagamenti si ricevono grazie alla treasury dao del progetto nessuna interazione da parte degli utenti nessun compenso elargito dalla parte degli utenti si viene pagati dalla treasury dao inoltre per fidelizzare i propri follower un domani si potranno creare anche dei token avvantaggiare gli utenti che seguono una community piuttosto che un'altra ed eventualmente creare degli nfp con i video e andare a vendere i contenuti negli store dedicati per gli nfp quindi un'opportunità di guadagno totalmente passiva perché john content creator su youtube e per chi sta dietro alle clip progetti cripto vale la pena analizzare questo progetto più a fondo e poi decidere di conseguenza ricordandosi che il mercato delle cripto valute altamente volatile ricordandosi di fare le proprie analisi e di scegliere l'acquisto di un toga e piuttosto che un altro in base al vostro profilo di rischio in base al vostro rischio rendimento in base alla vostra capacità e potere di acquisto non giocate d'azzardo non comprate un token perché lo vedete all'interno di un video ma analizzatelo sempre in autonomia mi raccomando